Si è svolta in una sala dell'Enea Gela la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno preso parte alla prima edizione del progetto Alternanza Scuola-Lavoro presso l'azienda del Cana Seizampe. Il percorso formativo è stato confermato per il prossimo anno ed esteso da altri istituti della regione. Avviato anche il contratto biennale di apprendistato di primo livello per 20 studenti dell'Istituto Tecnico Morselli di Gela. Riconoscimenti sono stati conferiti per i 5 migliori lavori del progetto che ha visto la partecipazione di circa 200 studenti, testimoniando come sia possibile studiare a scuola e anche negli stabilimenti Eni. Il progetto pilota per Gela organizzato e gestito da Eni Corporate University è stato inaugurato il 3 maggio scorso e ha coinvolto gli alunni del terzo anno appartenenti a 5 istituti di istruzione superiore. Terminato il periodo formativo i ragazzi sono stati invitati a preparare un lavoro riassuntivo del percorso. Le prime 5 tesine valutate da una commissione composta dai docenti della realtà Eni presenti a Gela sono state premiate durante la manifestazione. Il programma Alternanza Scuola Lavoro coinvolgerà circa 1500 studenti nei prossimi due anni a livello nazionale con stage, laboratori, corsi, e-learning e visite di studio presso siti Eni e altri siti di interesse per il settore energetico. Gli studenti gelesi hanno partecipato a sessioni in cui sono state trattate tematiche tecniche gestionali proprio del know-how aziendale nonché workshop di orientamento sulle competenze personali richieste per lavorare nelle grandi organizzazioni. Alle lezioni teoriche sono state affiancate anche le visite in campo presso la raffineria. Finalmente si crea una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Ormai non si può più improvvisare, ormai bisogna essere formati in modo intenzionale per inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro. I nostri ragazzi collocati in contesto aziendale danno delle performance inaspettate, molto, molto positive. È fondamentale che l'impresa capisca che ha un ruolo sociale, cioè quello di collaborare assieme ai docenti delle scuole alla costruzione del curriculum dell'alunno. Siamo riusciti a costruire un percorso formativo di otto giornate, estremamente ricco, per 200 ragazzi, per un totale di 16.000 ore di formazione, 31 docenti interni dell'ENI impiegati in queste attività. Quindi l'investimento è stato un investimento estremamente significativo. È stato loro anche spiegato quanto è importante in azienda riuscire ad agire dei comportamenti organizzativi positivi. Quindi la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di comunicare, la capacità di gestire anche delle priorità, di rispettare gli impegni. Vogliamo aumentare il nostro impegno per il territorio, come dicevo prima, non soltanto nell'ambito di attività industriale ma anche per altre iniziative. L'ENI non è solo una società, è una società che investe e che lavora nell'ambito industriale, ma ha una responsabilità verso il territorio sociale e noi siamo pienamente presenti in questo territorio. Abbiamo investito più di 300 milioni fino ad oggi. È una società che vuole abbandonare il territorio e non investe 300 milioni.